Dalle nebbie del Monte Porra con Irene Curtoni, gigante cancellato, quindi facciamo un bel bilancio della tua stagione. Non posso dire che sia andata male, ma ne sono contenta, perché posso ambire a qualcosa di più, ho sciato tutta la stagione veloce, ma non sono mai arrivata a fare il tuo manche a quel livello. E la domanda è, perché? Questa è una bella domanda, no sicuramente avevo delle aspettative alte e tante volte in gara quando parti volendo fare tanto raccogli meno, quindi andrò verso una prossima stagione con un po' più ancora di saggetta da questo punto di vista. Anche perché su Facebook comunque abbiamo letto che sei motivatissimo in vista del prossimo anno. Ma sì, è chiaro che alla mia età ogni anno prendi una stagione per volta, in questa sono stata benissimo fisicamente e non vedo perché non continuare la posta. Anche perché poi ci sono mondiali olimpiadi alle porte. Sì, vediamo che anche voi non sono riusciti a concludere la seconda manche, perché cominciamo a vedere. Un'altra bella esperienza e chiaramente, però non parto pensando al mondiale, parto pensando di farle le gare. Quindi aspettiamo, andiamo per chiusa. L'ultima cosa, adesso ci sarà spazio ancora per allenarsi. La seconda manche della stagione speciale maschile, quindi ci spostiamo in zona di Pocchio, attendendo velocemente le classifiche per la prevenzione dell'unica gara che si fa.